Nove candidati passano gli orali e restano in corsa per l'assunzione di fine anno. Ai sette agenti di polizia locale che saranno assunti entro il 31 dicembre con contratto a tempo indeterminato, il regalo lo porterà alla Befana anziché Babbo Natale. Ieri infatti è stato il giorno del test del colloquio, ha volto raccertare la conoscenza della lingua straniera prescelta e delle applicazioni informatiche più diffuse. Una prova propedeutica all'esame orale, svoltosi contestualmente, che ha visto i candidati confrontarsi con le materie specifiche previste nel bando. Agli 11 esperanti vigili urbani che avevano superato la prova scritta, sono state riposte tre domande ciascuno per verificare il grado di preparazione tecnico-giuridica, la capacità personale di elaborazione, la padronanza espositiva, la capacità di effettuare collegamenti tra le materie previste nel bando. Solo due degli 11 candidati non hanno superato il colloquio orale. Per sette posti da assegnare restano in corsa in nove. Siro Baldassarre, Loris Coccione, Ettore D'Alessandro, Cosimo Danilo del Vecchio, Mirco Fina, Lea Frittella, Antonella Imperatore, Sabatino L'Alama, Michele Paglione. Due di loro saranno esclusi nei prossimi giorni all'esilo della verifica di tutta la documentazione. La commissione giudicatrice, che ha fisso la gradatoria sull'esilo del colloquio orale a Palazzo San Francesco, sta procedendo a elaborare quella definitiva, che dovrà tenere conto dei titoli e delle preferenze, fermo restando la somma dei punteggi riportati dei candidati tra prova scritta e colloquio. Entro il 31 dicembre si procederà quindi a comunicare la graduatoria definitiva, a sottoscrivere sette contratti a tempo indeterminato per chiudere tutte le fasi selettive. Il concorso dei vigili arriva quindi alle battute finali, dopo settimane di polemiche e fibrillazioni. La consigliera comunale Elisabetta Bianchi, proprio dei nostri studi televisivi, aveva invitato il sindaco Anna Maria Cassini a recarsi in procura per difendere l'operato dell'amministrazione dopo le vergognose elezioni. Qualcuno ha minacciato anche dei ricorsi, ma al momento nessuna azione è stata avviata.